Giovani cavalieri che qui siete giunti, il mio nome è Seiya. Nei tempi che furono ho indossato le sacre vestigia di Pegasus e in seguito ho protetto la nonna casa dello Zodiaco come cavaliere d'oro del Sagittario. Vi dedico questo breve messaggio amici miei, eredi di un ideale che mai avrà fine. Una nuova guerra sacra sta per cominciare, siate coraggiosi. A voi affido la cura e la salvezza di Atena. A voi affido la cura e la salvezza di Atena. Benvenuti nel mito, l'alba degli eroi! Benvenuti! Benvenuti nel mito, l'alba degli eroi! Grazie a tutti